Andiamo in giro per la provincia, ci fermiamo oggi a Scanzo Rosciate con il primo cittadino Davide Casati. Buongiorno e benvenuto sindaco. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, allora come vanno le cose a Scanzo Rosciate, da dove partiamo? Vanno bene, nel limite del possibile. Stiamo attivando numerosi servizi con questo inizio dell'anno. In più siamo riusciti a sostenere, o meglio lo faremo tra pochi giorni, le famiglie più bisognose con l'erogazione di buoni spesa a circa 80 famiglie e in più un bando a fondo perduto per i commercianti e gli artigiani che maggiormente hanno sofferto con le chiusure che riceveranno durante il mese di febbraio dei contributi a fondo perduto dai 500 euro fino ai 1500 euro. Quindi stiamo analizzando tutte le domande pervenute e in queste settimane verranno erogati anche questi contributi. Quindi vicinanza a chi sta soffrendo di più in particolare. Quindi sostegno al territorio è la priorità? Certo è che è anche un momento nel quale bisogna investire un po' i soldi che sono arrivati durante l'emergenza Covid e allora insomma quali sono i cantieri aperti? Partirà entro il mese di marzo un cantiere importante di 500 mila euro ottenuti tramite un finanziamento regionale e realizzeremo a Negrone nella frazione baricentrica del nostro comune una rotatoria attesa da molti anni per mettere in sicurezza un incrocio e rendere via Brenta senso unico con marciapiede. Questo è sicuramente l'investimento più grosso che a breve partirà. Una seconda cosa molto importante che richiederà molto più tempo è il collegamento pedonale con un marciapiede in sicurezza che collegherà Negrone a Tribulina. Su questo è molto più complesso perché è un'opera di oltre un milione di euro e che coinvolge anche un privato. e quindi su questo stiamo progettando. Abbiamo vinto un bando dello Stato per finanziare almeno il progetto dettagliato e poi dovremo essere bravi a recuperare le risorse per fare anche questo importante cantiere. E poi c'è anche qualcosa per gli anziani. Avete pensato anche di aumentare il sostegno a favore degli anziani? Sì, stiamo facendo questo progetto molto importante grazie ad una cooperativa sociale Fasenerazioni che ha deciso di acquisire un immobile privato nel cuore del nostro comune verrà ristrutturato e ospiterà una sostanza un housing sociale per anziani quindi sono dei piccoli alloggi saranno una dozzina per anziani ancora autosufficienti che però non vogliono più vivere a casa da soli perché noi dobbiamo anche contrastare il tema della solitudine e quindi questo investimento privato in concerto col pubblico sarà davvero importante e non sarà l'unico perché stiamo ragionando anche su altri immobili all'interno delle nostre frazioni per dare accoglienza alle persone più fragili nel centro storico di Scanzo grazie alla cooperativa sociale Aiper Impronte è portata anche un'ulteriore ristrutturazione dell'ex oratorio ci sarà un housing sociale per disabili e una comunità per minori e quindi ecco investimenti ma sempre collegati all'attenzione per il sociale e poi in attesa della primavera ci sarà anche l'apertura della ciclopedonale quindi insomma si arriverà in primavera che si potrà percorrere sì entro la primavera verrà anche aperta la passerella ciclopedonale fatta dal Consorzio di Bonifiche in accordo con i tre comuni alla provincia in parte al Ponte di Gorle stiamo aspettando che Enel porti anche l'illuminazione serale di questa passerella ma indicativamente nella primavera sarà collaudata e aperta anche al transito di bici e pedoni stiamo vedendo le immagini del Moscato di Scanzo com'è andata? è andata bene a livello di produzione i produttori sono contenti però ovviamente anche le aziende agricole a causa pandemia stanno soffrendo la vendita dei loro prodotti perché tutto il mondo della ristorazione è fermo e quindi anticipo che stiamo valutando un bando anche qui con dei contributi a fondo perduto per le aziende agricole per sostenerle in questo periodo un po' particolare e poi si incontreremo nei prossimi giorni per capire cosa riusciremo a fare a settembre non sarà facile ovviamente fare la tradizionale festa del Moscato l'anno scorso abbiamo fatto i weekend di settembre con le aziende, le cantine aperte l'idea è un po' di restare in questa direzione migliorando e potenziando ovviamente questo mese importante che l'anno scorso comunque ha visto una numerosa partecipazione va bene, queste insomma sono un po' le eccellenze del territorio anche in gastronomiche è evidente che ci teniamo in modo particolare così come teniamo a tutti gli interventi che lei ha citato fondamentali per la ripartenza e la ripresa grazie a Davide Casati, sindaco di Scanzaro Sciato e buon lavoro grazie a voi, buona giornata e allora siamo in direttura d'arrivo anche per questa edizione dell'Etele grazie a tutti